3, 2, 1, go! Ciao a tutti! Oggi siamo qui per una nuova parodia Oggi siamo qui per fare una parodia di una nostra fan che ci ha chiesto di fare una parodia su di lei Noi ricordiamo a tutti e come sempre che questi video li facciamo per far divertire voi, gente E non noi E non per prendere in giro nessuno perché non ha nessun scopo prendere in giro nessuno In effetti perché se non prende in giro nessuno c'è chi prende in giro nessuno quindi nessuno non esiste quindi non ha nessun scopo prendere in giro nessuno mi sembra giusto Prendere in giro nessuno Ah! Se hai capito tutto Madonna! Aspetta Perché sei così? In questo video vi farò vedere vi farò vedere tre cose per fregare i video in televisione Allora Intanto tu tre cose per fregare i video in televisione Va bene C'hai ragione sei bravissima un fortento Parla più piano Olè Voi direte ma ce le dici tre cose fare i compiti farò finta di fare i compiti Cioè i genitori fanno i compiti fanno finta di fare i compiti Fanno finta di fare i compiti Farò finta di fare i compiti Siamo arrivati a 30 iscritti Io vi amo ragazzi Aurora Sì papà Papà Aurora Mi hai fatti? Sì papà Cosa? Sto facendo i compiti È che non dico una pesca Usa la chiavetta Sì 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 bravo Premetti la chiavetta Pim Ho compito su un computer Scusate Un plan pad Di quello che hanno i miei cugini Che hanno sei anni Oddio Ma ovvia Sì papà Stiamo arrivando a 30 iscritti Vi amo E ho in tre secondi 20 iscritti 30 iscritti Oh mio addio Per il Fabi J Sì 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 stavamo studiando Possiamo andare in casa Che bello Ma dove sei? No vabbè A parte questo Aspetta mi sono perso Allora scusami È arrivato il padre Gli ha detto Fai i compiti Sì sì E poi Ti mette la chiavetta in mano Ti mette la chiavetta in mano Ha messo la chiavetta dentro Poi ha fatto Oh mio addio Poi mi ha detto Niente scrivetti Poi ha messo via la chiavetta Il tablet Il libro Ha detto Un minuti Posso andare in camera Cosa? Ok No No Niente Ok Bene la scritta Svegliati Ancora Ancora due minuti Due minuti Due minuti Due minuti Due minuti Allora ma Ma quel rumore che senti di sottofondo Sono dei versi Dello zoo Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Neanche le deline Non c'è Roar Cos'è Roar? Leone Vai via Aurora 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 Un minuto Un minuto Ma io non capisco quello che dice Un minuto però Un minuto Ha 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 Allora Io faccio finta Di avere Il mal di pancia Andrò là E farò finta Di avere un mal di pancia E fino a qui ci siamo arrivati Dopodiché Lui mi lascerà a casa Dopodiché Papà mi fa male la pancia Pancia Due minuti Ma che c'è Come ti fa male la pancia Sentiamo Che hai la febbre Ma non hai nemmeno la febbre Smettiamola Che c'è la febbre Sì papà Non cazzo No hai detto Vieni a scuola Muoviti Sto bene Non voglio Ma c'è ancora sta parlando E lei si diverte Tipo ancora Sto dentro la camera Sì che bello L'ho fregato Sì Sono a casa Fare un casino Della madonna E poi Dietro arriva il fratello Add your text here Bello pure questo Ma a parte che non doveva Una serie trascendente Ce ne ha fatto due Va bene Quindi per questo video è tutto Mi lasciamo i link di social Dove ci troviamo E quali sono Dove In descrizione Ecco Instagram Facebook Twitter Da cosa non basta Se il video vi è piaciuto Vi ricordo Che dovete Immediatamente Adesso Now Subito Lasciare un mi piace Iscrivervi Commentate E Ciao Ciao